Care studentesse, cari studenti, cari colleghe, cari colleghi, buongiorno e ben ritrovati. È stato un periodo molto intenso, carico di preoccupazioni ma anche di tanta determinazione e di senso di responsabilità nel fare al meglio il nostro lavoro e di questo vi ringrazio molto. Ai nostri studenti voglio ribadire ancora una volta che avrò sempre verso di loro un atteggiamento garantista e che promuoverò il miglioramento continuo della nostra didattica offerta online, in particolare nel modo in cui facciamo oggi anche esami scritti. Abbiamo creato una commissione paritetica tra i vostri rappresentanti e il governo dell'Ateneo in modo tale che ogni settimana si faccia il punto e si migliori e si prendano dei provvedimenti in questa direzione. Abbiamo innanzitutto messo al centro la sicurezza delle persone. Gli studenti, come è noto, oggi non entrano in aula e abbiamo una percentuale di smart working molto molto accentuata. Voglio anticipare che farò di tutto perché quanto prima, nei limiti di quello che consente la condizione della pandemia, si possa ritornare sempre di più in presenza, in quanto ritengo, come penso tutti voi, un dato fondamentale, quello della didattica offerta in presenza, soprattutto quella socialità, quella convivialità che caratterizza una comunità universitaria come la nostra. Voglio però dirvi che adesso è tempo di guardare al futuro e di guardare a quello che sarà dopo questa che abbiamo iniziato, la fase 2 e la fase 3, cioè la fase in cui svolgeremo il prossimo anno accademico. Su questo però dobbiamo fare i conti con due circostanze principali. Tutti gli studi oggi ci dicono che questa pandemia continuerà nei mesi futuri e che impatterà a livello mondiale sul prossimo anno accademico, essendo la nostra università internazionale che attrae da tutto il mondo studenti, ma anche da tutte le regioni italiane, dobbiamo per forza offrire didattica online a tutti e questo quindi sarà garantito a tutti. Ma questo deriva anche da una condizione molto semplice. Sapete che uno degli strumenti per contenere il rischio di trasmissione del contagio è il distanziamento fisico tra le persone e dotarli studenti e studentesse di mascherine, ad esempio, o di alcune misure di prevenzione. Bene, questo comporta automaticamente per noi e per tutte le università di avere una capienza che è ridotta del 25% nelle nostre aule, anzi è ridotta del 75% perché solo uno su quattro potrà prendere posto in aula. Allora, questa circostanza anche è forse ancora più determinante nel fare sì che noi si debba comunque erogare didattica online. Ed è per questo che uno dei principi cardine per dare pari opportunità a tutti sarà proprio nel fare ancora meglio questa didattica online rispetto a quello che abbiamo fatto in questo secondo semestre. Ed è per questo che investiremo molto in questa direzione. il Consiglio di Amministrazione mercoledì stanzierà oltre un milione di euro per investire sui server dove il nostro programma di virtual classroom opera e investire anche in nuovi programmatori, ben sei nuovi programmatori saranno all'opera per dotare il nostro sistema di didattica in remoto di nuove funzioni decise insieme al Teaching Lab e decise a seguito di un dibattito che ci sarà nei prossimi giorni con il corpo docente. Ora però il Ministro dell'Istituzione, Gaetano Manfredi, ci ha detto che potremo da settembre anche riprendere attività in presenza. Allora, nelle scorse settimane abbiamo discusso molto negli organi di governo, anche con una conferenza di Ateneo, di che cosa è opportuno fare in presenza anche tenendo conto delle ovvie limitazioni in termini numerici che vi ho detto prima. Ed è stato deciso che potranno essere tenute in presenza attività di esercitazione, ad esempio in cui sia premiante la discussione tra studente e studente, tra studente e docente, attività di tipo progettuale in cui gruppi di studenti elaborano o la risoluzione dei problemi complessi o la concezione di qualcosa di nuovo, un po' quello che noi abbiamo lanciato con le cosiddette challenge. Saranno anche opportunamente fatti delle esercitazioni di laboratorio, sperimentali, didattiche. Ci saranno team studenteschi che ripartiranno a lavorare insieme. Avremo anche la possibilità di ripartire con i tirocini curriculari presso le aziende e di dare nuova linfa alla ricerca sperimentale fatta dagli studenti in tesi di laurea perché anche loro potranno tornare. Queste sono le principali attività che faremo in presenza a partire da settembre. Sempre tutto progettato con un obiettivo chiaro. Ridurre al massimo le differenze tra chi è in presenza e chi è in remoto. E per questo investiremo moltissimo in sistemi che non semplicemente consentano in tante aule dell'Ateneo su cui lavoreremo in questi mesi di registrare e rimandare in remoto quello che capita in quelle aule, ma soprattutto di anche garantire un'interattività per chi è in remoto a seguire quelle classi progettuali, quelle esercitazioni, come dicevo prima, discusse, chiamiamolo così, interattività che consente a chi è in remoto di intervenire e discutere anche lui, anche lei, con docenti e colleghi che stanno qui in presenza. Tutto questo quindi ci consentirà di ripartire a vivere un po' l'università a beneficio dei nostri studenti, dei nostri anche colleghi e realizzeremo un sondaggio con tutti i nostri studenti già immatricolati e anche con tutte quelle matricole. Oggi partono gli Open Days, questo salone dell'orientamento che sarà virtuale quest'anno, in modo da capire quanti di questi desiderano venire a Torino per godere di queste attività di didattica in presenza. In base a quello che sarà questo sondaggio, eventualmente andremo oltre negli investimenti su nuove aule per ospitarne quanti più possibile. Avremo comunque sempre, nello scegliere chi entra in aula, una priorità data agli studenti disabili o DSA, questo ce lo chiede il Ministero ma rientra in quell'etica che è propria di questo Ateneo, e dell'Università Italiana in generale. Quello che non faremo per scelta chiara, anche ben motivata, è di fare le lezioni in presenza, perché le lezioni, il trasferimento di informazioni da un docente agli studenti, verrà comunque fatto online o qualsiasi tipo di esercitazione in cui è meno premiante la discussione con gli studenti. Pensate a un docente, ad esempio, che alla lavagna risolve, a beneficio di chi è presente in aula o tradizionalmente, un esercizio. Bene, questo sarà portato ovviamente solamente sull'online. Sarà anche garantita la sicurezza degli studenti, quello che abbiamo deciso, e di caricare l'Ateneo dei costi associati non solo alla riqualificazione delle aule, ma anche alle dotazioni di gel, di mascherine, al cambio, diciamo, di paradigma che ci sarà nella logistica dell'Ateneo per far sì che il rischio di trasferimento del contagio sia contenuto. Sarà quindi tutto a carico dell'Ateneo. Avremo anche modo di lavorare molto con i docenti, nel formarli a fare ancora meglio di quanto hanno fatto didattica online. Fare didattica online può essere anche prodromico di un modo diverso in futuro di organizzare i propri corsi. Posto che è fondamentale la didattica in presenza, soprattutto per quegli elementi di discussione che questa garantisce, qualche docente potrà sperimentare l'anno prossimo un modo diverso di fare lezione. Parliamo ad esempio delle cosiddette flip classrooms, magari alcuni contenuti informativi potranno essere trasferiti su una didattica in remoto, su una registrazione, per spendere il tempo con gli studenti nella discussione e nella maturazione del loro senso critico in aula. Per quanto riguarda la mobilità, la mobilità degli studenti sarà contenuta molto nel primo semestre, tendenzialmente anche in linea con quelle che sono le raccomandazioni ministeriali. Quello che sarà l'erasmus, la mobilità in entrata e in uscita sarà solamente virtuale o eventualmente sarà posticipata al secondo semestre. Quello che si ritiene è che nel secondo semestre del prossimo anno accademico ricomparirà una mobilità in presenza, questo ci atterremo scrupolosamente. Per quello che riguarda invece la ricerca in Ateneo, bene, questa interessa alcuni studenti che sono i dottorandi, le missioni, la mobilità sarà comunque da autorizzarsi, anche tenendo conto di quello che è lo stato della pandemia e quelle che sono le normative dei paesi interessati o delle regioni italiane interessate, esattamente come capita per i docenti e i ricercatori. Voglio adesso dire ai miei docenti e ricercatori che da qua a settembre continuativamente incrementeremo il numero di docenti che potranno accedere all'Ateneo. E lo faremo anche con una visione alla possibilità di ritornare nei propri studi, nelle biblioteche. Questo in ragione del fatto che se nella partenza abbiamo considerato prevalentemente laboratori di tipo sperimentale come luogo da far ripartire con una certa urgenza, adesso siamo ben consci che in alcune aree culturali del nostro Ateneo fare ricerca significa frequentare biblioteche, frequentare il proprio ufficio. Quindi questa settimana definiremo un piano per far sì che in aree come ad esempio il Castello del Valentino, che è caratterizzato da ricercatori, studiosi, che hanno questo tipo di approccio alla ricerca, si possa ritornare progressivamente nei propri uffici e nelle biblioteche. Chiudo ringraziandovi ancora per l'attenzione, dicendovi che un messaggio molto dettagliato verrà dinamato oggi attraverso mail molto più dettagliato di quello che ho potuto dirvi adesso e ribadendovi che per qualsiasi cosa sono qui, siamo qui a disposizione per recepire indicazioni, suggerimenti e cercare di fare tutti del nostro meglio. Grazie per l'attenzione.